Sì, sì, proprio il 31 di luglio, festeggeremo sette anni, il nostro primo voto è stato il 31 luglio del 2010. Io ringrazio tutti per essere qui, ringrazio il mio caro amico Nardo Filippetti che mi ha dato il piacere di battezzare questo ultimo arrivato, questo nuovo 37800, lo abbiamo battezzato Eden proprio in suo onore, lui ha sempre creduto in noi sin dall'inizio e sono veramente, io ti parlo proprio al nome dell'Alba Star, siamo veramente contenti e orgogliosi di averti a bordo dei nostri careri. Detto questo, lo abbiamo detto precedentemente, la nostra è una compagnia giovane, una compagnia che crescerà e che vuole crescere pian piano, non abbiamo grandi idee manageriali così, cresciamo, siamo una famiglia molto in grande, una famiglia italo-spagnola. Io qui ce ne sono tanti di spagnoli e io li voglio ringraziare, quelli che sono di spagnoli e che ne stanno arrivando qualcuno alle mie spalle, perché anche grazie a loro, anche grazie al management dei nostri amici e fratelli spagnoli che siamo qua. È un atto dovuto per loro perché siamo a Palma, siamo nati a Palma, continueremo ad essere a Palma, però con un occhio all'Italia e con un occhio all'Europa intera. Voglio soltanto dire, non voglio tediarmi con un discorso, voglio soltanto dire una cosa, questo giorno oggi è così per una persona che non c'è più e al quale lo dedico e se non fosse stato per lui non ci sarebbe stato neanche questo giorno. Parlo di Tino Russo, era mio marito e lui ci aveva fermamente creduto e mi ha dato la forza e lo ringrazio ovunque Lucia per continuare e andare avanti e non mollerò mai.